Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo video sul canale. Penserete che ci troviamo nella vanilla, in realtà è così, però questo non è un video della vanilla. Ho infatti pensato di unire l'utile al direttevole e farvi vedere una piccola sessione di mining mentre vi parlo e chiacchierò con voi invece di fare il solito vlog. Quindi vedremo il nostro PG di Minecraft che va a minare del ferro del carbone in una piramide eccetera eccetera. Lo vedrete nelle immagini e intanto io chiacchiererò con voi, spero vi piaccia l'idea. Quindi ragazzi in questo video vorrei che ci fosse un po' meno Marucco e un pochino più Marco. Marco che vi racconta un po' della vita, di ciò che fa, di ciò che c'è dietro al canale perché in realtà è stato un periodo, gli ultimi due mesi sono stati due mesi davvero assurdi, molto molto stancanti, stressanti con delle conseguenze. Partendo dalla programmazione del canale ragazzi che avrete visto che non è regolare, non stanno uscendo i video tutti i giorni come prima e questo è dovuto a tantissimi fattori, seri e meno seri. Partiamo però dal backstage del mio canale perché sono cose in realtà del quale io non vi ho mai parlato e mi piacerebbe parlare con voi per farvi un po' capire tutto quello che ha portato a questa situazione. Partendo dal canale appunto, io mi metto a registrare i video, in questo caso sono l'1.06 della notte e voi direte perché registri di notte? Perché non mi posso permettere di registrare durante il giorno. Mi spiego meglio. In realtà potrei farlo, però non potrei uppare i video in orario. Quindi in realtà io devo registrare la notte, montare ed editare la notte e poi mettere a caricare uppare i video intorno alle 3-4 del mattino per essere sicuro che alle 14 siano online. Se tutto va bene, perché in realtà con la mia connessione io per uppare un video ci metto dalle 10 alle 12 ore. Ed è assurdo ragazzi, è sempre stato così. E questo significa che io da un anno che non vado a letto regolarmente, non ho uno stile di vita sano, mettiamola così, perché appunto lavorando la notte non puoi portarti avanti eccetera eccetera. E tra gli esempi più stupidi ragazzi ci sono anche quelli che portano a non poter pubblicare un video in orario e essere frustrato per quello perché mi dispiace per voi, però capita, vi faccio l'esempio. La settimana scorsa, in realtà il mio computer doveva uppare un video di The Sims 4 che non è uscito il giorno preciso ma l'indomani per il semplice fatto che Windows ha deciso di riavviarsi tramite un aggiornamento alle 3 del mattino. Quindi io mi sono svegliato la mattina dopo visto che il video era uppato al 3% e ha finito di upparlo alle 20. Quindi in realtà potete capire il grado di degrado appunto della mia connessione. Non posso permettermi errori, non posso permettermi di sgarrare e se sgarro in qualsiasi cosa la pago cara perché vuol dire lavorare di più la notte, vuol dire dormire meno e questo è un qualcosa che nel tempo porta allo stress, porta alla stanchezza e porta anche a delle conseguenze. Altro esempio stupido ragazzi, ho già registrato i prossimi due video della Vanilla. Il 74, o meglio il 73 e il 74. Vedrete il 74 e lo rinominerò 73 per il semplice fatto che la prima parte di questo progetto di Natale che secondo me è molto molto bello, non vedo l'ora di farvi vedere è andata persa, si è corrotta quindi significa che abbiamo un pezzo del progetto già fatto nell'episodio che non vedrete che dovrò spiegarvi quindi devo mettermi a editare in un certo modo il prossimo episodio e questo significa aggiungere delle clip, aggiungere delle spiegazioni eccetera eccetera e complicarmi la vita ma soprattutto mi dispiace il fatto che non vedrete il progetto partire da zero perché non mi va di distruggere quello che ho fatto è infattibile per una serie di ragioni che non sto qua a spiegarvi ma poi lo capirete quindi in realtà devo un po' fare dei salti mortali per quel video e sono davvero esempi e problemi stupidi in realtà i problemi ragazzi sono altri anche perché Maruco è stupido, scemo eccetera eccetera Marco diciamo che vive una vita molto molto più complicata di quanto potreste pensare quindi in realtà dietro al sorriso, dietro al fatto che faccio di YouTube l'angolo dove voglio divertirmi con voi e dove voglio sfogarmi dove voglio comunque evadere da ciò che vivo tutti i giorni appunto c'è una persona che ha un altro cervello, un'altra maturità e sicuramente un qualcosa che non si vede spesso sul canale perché mi piace fare le battutine scemi, sono i Sims 4 perché mi diverto ed è giusto che sia così nell'ultimo mese poi i ragazzi si è messa di mezzo l'influenza che mi ha bloccato per un paio di giorni ma non è stata l'unica cosa e quindi ora Marco, il serio Marco parla con voi e vi dice di fare qualcosa di molto molto importante perché ho notato di avere un piccolissimo problema visivo mettiamola così che in realtà si vede anche nei video se anche cerco di nasconderlo però c'è ed è un qualcosa che non si capisce che cos'è quindi sono sotto esami ragazzi sto aspettando gli esiti degli esami anche quello per quanto sembra assurdo ti porta via la voglia ci sono stati dei giorni nei quali io non avevo voglia di registrare in questi due mesi e se visto dal fatto che non sono usciti dei video e preferisco che sia così ragazzi preferisco non mettere un video online se non ho voglia di farlo perché farlo per forza non mi va non sono quel tipo di persona quindi in realtà preferisco non mettere i video per due giorni ma tornare quando sono alto up diciamo con il mio umore eccetera eccetera però c'è da dire anche che c'è una piccola preoccupazione sotto ma credo che non si tratti di niente di grave assolutamente probabilmente solo stress legato ai fattori che vi ho appena descritto ed è anche un po' un periodo di delusione mettiamola così perché se devo essere sincero Marco lo è non vedo perché non lo deve essere Marucco in realtà ho notato un calo del canale ragazzi di tutte le serie del canale alcuni in realtà sono dei cali che mi hanno fatto davvero un po' male un po' come quelli della vanilla perché partendo dalla vanilla io non capisco perché in realtà non si dia la possibilità a una serie per quanto male il gioco non piaccia ma io mi ci impegno davvero tanto ragazzi e non so non so mi dispiace mi dispiace davvero vedere che è poco seguita in realtà mi piacerebbe fosse seguita un po' di più sto cercando di modificarla di costruire in un certo modo di cambiare il metodo di costruzione anche imparare perché è giusto che sia così perché in realtà la vanilla va avanti da quasi un anno questa serie della vanilla e io sto imparando tantissime cose dal costruire all'arredare a diciamo a fare delle cose un po' particolari mi sta piacendo tanto ma il calo risulta anche su The Sims 4 e me ne prendo io le responsabilità ragazzi me ne prendo tutte io sta di fatto anche che YouTube ci mette del suo con la sezione creatori di gaming perché in questo periodo le feed non arrivano e quindi approfitto anche in questo video per chiedervi di farmi sapere nei commenti se vi va se vi arrivano le feed dei video nel caso contrario se state passando per la prima volta sul canale vi invito ad iscrivervi e a lasciare un like per spammare questo video perché vorrei che più di voi vedessero appunto questo video per ascoltare quello che sto dicendo perché credo sia un discorso serio d'altra parte ragazzi vi ricordo di attivare la campanellina delle notifiche perché appunto ho paura che i feed non arrivino al calo di visualizzazioni per quanto sia sicuro che sia una cosa generale che non sia un qualcosa di personale del canale in realtà un po' mi spavento un po' mi dispiace perché appunto vorrei che vedeste i video ma veniamo alle questioni spinose ragazzi sotto gli ultimi video non ho potuto fare altro se non notare se anche non ho risposto a un commento a una frase anzi in realtà ha tre parole che stanno come dire proliferando come funghi sotto i miei video le tre parole sono ma la pixelmon ragazzi la pixelmon è stata la pixelmon time parlo un progetto molto troppo ambizioso forse ho pensato magari stupidamente di portare il roleplay di portare una serie scritta e non giocata quindi scritta da me qualcosa che non si era mai visto e ci tengo a precisare questo spero che siate d'accordo con me nel dire che non avete visto quella trama quelle cose lì perché voleva appunto differenziarmi è la cosa che più tengo e in realtà non è andata bene non è andata bene sicuramente come la prima stagione che ha fatto dei numeroni e non so neanche il perché in realtà e quindi sono rimasto molto molto deluso dalla pixelmon tanto che ho deciso di terminarla semplicemente se devo essere sincero io riaprirei io ero un mondo e giocherei alla pixelmon sono fresco di ultra sole e ultra luna quindi figuratevi a me piace molto la pixelmon e giocherei domani con voi alla pixelmon perché mi piace un sacco però ho paura perché appunto ho notato anche che se porto qualcosa di strano non solo non viene apprezzato non viene visto e mi dispiace l'esempio più lampante sono i due video che ho portato che non sono serie principali uno di Mario Odyssey uno di Xenoblade Chronicles 2 quei video non li hanno guardati in realtà non hanno fatto visualizzazioni praticamente e mi dispiace non tanto per il video perché non era bello brutto o il gioco non è bello brutto sta di fatto che era qualcosa di diverso volevo portare l'esperienza di ciò che gioco anche fuori dal canale perché non gioco solo ai giochi che vedete sul canale e quindi in realtà era una buona esperienza per me per farvi vedere per condividere con voi e mi dispiace che non siano visti questi video davvero mi dispiace un sacco e c'è da dire anche che da altra parte io non posso focalizzarmi su due serie sono stanco anche io di portare solo due serie sul canale ho deciso infatti di scrivere dei video che vedrete probabilmente dall'inizio dell'anno prossimo e non sono video gameplay ve lo dico già ragazzi saranno video diversi perché credo sia arrivato il momento di evolvere di portare più qualità spero ma anche varietà sul canale e questo sarà possibile anche perché e ora rispondo anche a un'altra domanda ricorrente a gennaio uso il condizionale perché purtroppo devo ma in teoria dovrebbe trattarsi dei primi di gennaio arriverà finalmente la fibra quindi la vita che faccio finora in teoria dovrebbe scomparire perché mi permetterà anche una 100 mega se anche so che in realtà si tratta dell'iperfibra mi permetterà di upare i video in pochi minuti significa fare più video fare più produttività avere più tempo per me stesso ragazzi che non guasta anche perché si riversa la stanchezza sul canale me ne sono accorto quindi in realtà preferisco avere più tempo e portare appunto il canale in un certo modo e questo significa anche riprendere con le live voglio fare delle serie in live intere serie in live ragazzi voglio portare magari mini giochi di minecraft qualche volta di tanto in tanto o comunque qualcosa online e multiplayer perché la connessione me lo permetterà cosa che ora è impossibile per me quindi in realtà ci saranno delle grandi grandi novità da gennaio in poi sta di fatto che questo è anche il periodo dei countdown per me perché è un periodo che non amo particolarmente dell'anno questo se devo essere onesto però è anche il periodo nei quali io tiro un po' le somme e metto sempre a posto i tasselli degli obiettivi del prossimo anno per quanto riguarda quest'anno in realtà gli obiettivi li ho raggiunti se non pienamente mettiamola così ma sarò abbastanza contento per il prossimo anno ragazzi ho tantissime aspettative e sta a me portarle avanti quando decidete di fare qualcosa quando avete un obiettivo dovete essere voi a volerlo per prima come vi dicevo partiranno le live appena avrò l'iperfibra o la fibra che dir si voglia partiranno le serie in live e soprattutto dal prossimo anno ho tantissime aspettative per quanto riguarda ciò che uscirà partendo da minecraft parliamo di minecraft dal prossimo episodio quindi non dal 73 ma dal 74 quindi il prossimo prossimo quello che non vedrete domenica ma la prossima settimana metteremo su le resource pack del nuovo minecraft 1.13 minecraft sta cambiando in primavera arriverà credo la 1.14 significa update acquatico significa cambiare modo di costruire di giocare per tantissimi tantissimi giocatori e non vedo l'ora di condividere quell'esperienza con voi ragazzi perché minecraft o in generale una serie è un gioco e lì sta ma la particolarità è vedere i video di chiunque proprio per vedere la sua esperienza con il gioco quindi io voglio condividere con voi la mia esperienza con minecraft ci saranno tantissimi cambiamenti anche per quanto riguarda la vanilla quindi aspettatevi di tutto e altra cosa ragazzi a gennaio arriverà anche lo staff pack probabilmente che abbiamo votato noi della lavanderia di The Sims 4 ma aspetto un anno bello pieno da The Sims 4 è bello pieno di espansioni spero almeno uno o due lo spero davvero game pack staff pack quindi da quel punto di vista sono molto molto tranquillo non vedo l'ora di recensirlo giocarlo e portare avanti la serie che è arrivato quasi al cinquantesimo episodio ragazzi stiamo macinando degli episodi e mi sta piacendo e probabilmente ho visto sotto i commenti dell'ultimo video un po' di variazioni che ci saranno nella serie e il che non mi dispiace ma poi ragazzi altra novità assoluta un qualcosa che volevo portare già l'anno scorso e quest'anno e che non ho potuto fare non avendo un 3ds capture arriverà l'ottava generazione pokemon su switch io posseggo la switch posseggo anche il pvr che mi permette di registrare da switch l'avete visto con super mario odyssey e xenoblade significa che voglio vivermi ragazzi vivermi l'esperienza dell'ottava generazione pokemon insieme a voi in toto con una serie che spero di poter portare in live con voi e soprattutto con tanti video video anche relativi a scambi prodigiosi eccetera eccetera tantissime cose da fare e non vi escludo ragazzi che nell'attesa che esca questo benedettissimo pokemon su switch magari potrebbe tornare la pixelmon vi dico anche che se la pixelmon tornerà spero probabilmente sarà puro gameplay ragazzi ma sarete voi a deciderlo quindi fatemi sapere sotto nei commenti seriamente se seguireste un mio video perché a volte vedo anche delle persone che mi scrivono bel video due minuti dopo aver pubblicato un video da 35 minuti significa che ha visto i primi due secondi del video e poi non ha visto altro quindi in realtà anche quello un po' delude perché preferisco che mi diciate questo video non mi piace per questo motivo questo motivo questo motivo invece di scrivermi bel video e non guardarli quindi anche da quel punto di vista ragazzi un po' sono un po' deluso perché vorrei avere un confronto più alto con voi vorrei confrontarmi nei commenti ma non posso confrontarmi con bello iscritto ricambi primo non posso cosa rispondo il secondo è in forno cioè non so bene cosa rispondere ragazzi se il primo è il primo il secondo è il secondo ovviamente devo smorzare l'atmosfera di serietà perché altrimenti non sarei io con delle battute di cacca però non importa di questo in realtà è un discorso anche quello un po' serio vorrei appunto essere più attivo sui social quindi in realtà mi impegnerò probabilmente a mettere i feed dei video su facebook tutti i giorni ragazzi la pagina facebook la trovate in descrizione cercherò anche di essere più attivo su instagram ragazzi perché mi piace mi piace voglio anche essere più attivo pubblicare più foto su instagram quindi cercherò anche di togliere tra virgolette a youtube la possibilità di non mandare i feed cercando di feeddarvi i video in qualche modo esterno alla piattaforma perché è l'unico modo che ho quindi ragazzi avrete capito che non mi sono arreso che ho tanta voglia di creare ho solo tanta tanta voglia di farlo in maniera più serena mettiamola così è un periodo un po' strano ma riguarderò questo video fra un mese e penserò che cacchio stavo dicendo probabilmente non lo so è anche un po' uno sfogo con voi ma mi piace il fatto di sfogarmi mi piace il fatto che appunto sia Marco a parlarvi e meno Marucco e quindi in realtà sono contento di aver fatto questo video ma questo video è anche l'inchpit per farvi capire che appunto il canale sta per cambiare pian piano nei prossimi mesi con video che non sono solo gameplay e anche con una programmazione più succulenta mettiamola così probabilmente no succulenta non è la parola giusta diciamo che sarà una programmazione molto molto più precisa quello sì cercherò di essere più puntuale ma soprattutto più ricca mettiamola così di contenuti e quindi mi aspetto tantissime cose da quest'anno e spero davvero possiate continuare a supportare quello che faccio perché a me continua a piacere quindi continuerò a portare video sul canale e continuerò a portare quello che faccio su questa piattaforma detto ciò ragazzi ho parlato per tantissimo tempo non so bene con i tagli come verrà fuori il discorso ma direi che per questo video è tutto abbiamo in tutto ciò preso dei materiali che ci serviranno per la vanilla quindi in realtà non è stato tempo perso andare a minare ma per il momento direi che ci fermiamo così vi do l'appuntamento a stasera con la skyblock che torna col dodicesimo episodio nel nether dove vedremo la farm di pigmen e poi vedremo da domani i prossimi video quindi in realtà vi do l'appuntamento anche a domani con i prossimi video io spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti commentate confrontiamoci che credo sia la cosa migliore insieme sotto nei commenti per il resto vi do l'appuntamento alla prossima e vi dico ciao a tutti